Salve a tutti ragazzi e benvenuti al mio gameplay di Battlefield 3 che ho copiato dal progetto AVC Ardua via del commentatore quindi Motherfucker dead quindi è un commento di Battlefield 3, opera di Lego, perdonate l'editing ma è il mio primo video modificato diciamo e in questi video Lego e un altro team del progetto AVC aiuta quelli alle prime armi come me a creare e imparare a fare dei gameplay quando non hanno tempo di registrare ovvero loro fanno un video grezzo e lo mettono su youtube senza commento senza tagli così e noi lo sviluppiamo tutto qui quindi è un'ottima idea trovo soprattutto per quelli come me che non hanno tempo di registrarli e non sanno come parlo e questo video quindi è praticamente il mio primo gameplay serio con un commento presto arriveranno ogni una settimana verrà un gameplay grazie ai video del progetto AVC spesso di Battlefield che è un gioco che io possiedo o Black Ops o quello che trovo diciamo questo gameplay è stato registrato attraverso il computer come si vede dalla maneggivolezza dei comandi e basta tutto qui allora cosa devo dire un ringraziamento speciale a Lego e iscrivetevi e di nuovo scusate per l'editing schifoso ma nonostante io abbia iMovie quindi un gran pezzo di Mac sto appena imparando usarlo questa partita è stata fatta da Lego non da me quindi i commenti li fate a Lego grazie mille e arrivederci perdonatemi l'audio perché fortunatamente ho un microfono fallato che non funziona